Luciano, primo passaggio di questa Final Four è superato a pieni voti con una grandissima prestazione di squadra, una grandissima prestazione tua che ha messo gli attaccanti nelle condizioni migliori per attaccare adesso una bella doccia, un po' di riposo e poi domani? Domani mattina saremo qui a fare allenamento e il pomeriggio a provarci a giocarci questa grandissima partita, grandissimo spettacolo sicuramente sarà da soffrire, sarà da lottare e sarà da mettere in campo tutto quello che abbiamo perché comunque tanto la Lube come quello che fosse arrivato in finale è una gara molto tosta, molto difficile e ci serve il tutto e di più per fare risultato Senti, prima di parlare della finale, una cosa, questa si ripete la finale della Supercoppa secondo te vuol dire qualcosa oppure è un caso? Quello che è passato è passato, abbiamo giocato già quattro volte quindi abbiamo vinto due, loro due succederà che possono vincere loro come possiamo vincere noi abbiamo il 50% delle chance e proveremo a sfruttarle tutte quante Come si decide domani la partita con la Lube? Una squadra che riceve benissimo, che è una gran battuta, che dobbiamo fare noi? Dovremo avere un po' di fortuna e sicuramente fare un'altra migliore partita e averci anche il sostegno del pubblico E quello sicuro, sono venuti in tanti, veramente vi faccio i complimenti a tutti quanti che sono venuti questo weekend e abbiamo ancora dimostrato di riempire comunque quasi tutti i palazzetti d'Italia La prossima volta che mettono la Coppa Italia più lontano verranno comunque quindi grazie mille per i viaggi e niente saremo qui domani sicuramente a goderci questo pieno weekend, piena domenica di spettacoli per la famiglia e per la Palavolta Grazie Luciano